buongiorno a tutti allora oggi parliamo di un tipo di fotografia che ho recentemente scoperto da uno dei fotografi che seguo su youtube che ha intrapreso appunto affiancandola alla classica fotografia di paesaggio che lui opera che lui fa questo nuovo tipo di fotografia parliamo della fotografia a infrarossi adesso io come sempre non sono un tecnico chiaramente vi dico le cose principali per capire di cosa stiamo parlando e poi se qualcuno vuole approfondire anche in questo caso ci sono centinaia di video su youtube che lo spiegano molto meglio l'occhio umano è capace di percepire solo una limitata banda di onde elettromagnetiche come sapete la luce è un'onda elettromagnetica e appunto l'occhio umano è concepito per captare solo una porzione dell'intero spettro di frequenze che invece compongono appunto l'intera ecosistema delle onde elettromagnetiche al di sotto di questa soglia visibile parliamo di raggi ultravioletti che quindi sono nella banda soprattutto del blu così insistono su quella banda lì e noi non riusciamo a vedere questa porzione al di sotto delle frequenze della luce visibile al di sopra invece di questa range di frequenze si parla di infrarosso in particolare le curve diciamo così dei colori che noi possiamo vedere nella fascia dell'infrarosso si appiattiscono e rimane solamente il canale del rosso solamente la frequenza del rosso per questo si chiama infrarosso ora questo infrarosso a noi che ci interessa ci interessa perché questa gamma di frequenza se colpisce determinati oggetti poi viene riflesso ovviamente se captato da degli effetti molto particolari esempio la clorofilla quindi le foglie il fogliame delle piante è un qualcosa che emette moltissimi infrarossi cioè che li riflette quasi tutti quindi se io faccio una foto a un albero con uno strumento che è capace di captare l'infrarosso questo albero sarà completamente bianco di un bianco brillante e quindi riuscire a captare le frequenze dell'infrarosso fornisce delle opportunità creative molto significative e anche molto divertenti come faccio però a captare questa questo range di frequenze fondamentalmente in due modi o prendo una macchina fotografica digitale che non uso oppure vecchia e la faccio convertire quindi la mando presso un laboratorio il quale laboratorio rimuove i filtri che sono stati posti sul sensore per tagliare la frequenza dell'infrarosso perché i sensori digitali sono capaci di captare sia l'ultravioletto e sia l'infrarosso quindi per non avere foto inguardabili sono stati posti dei filtri fisici sia per tagliare l'infrarosso sia per tagliare l'ultravioletto e poi anche un'elaborazione software che faccia sì che il residuo di queste frequenze non vengano impresse nella foto stessa quindi i laboratori specializzati rimuovono questi filtri e da quel momento in poi io avrò una macchina fotografica che può scattare solamente all'infrarosso il vantaggio di questa tecnica che la macchina fotografica fondamentalmente non cambia quindi potrò sfruttare gli stessi valori di esposizione la stessa lettura dell'esposimetro che usavo prima cambia semplicemente la capacità del sensore di captare questi infrarossi cosa che prima non poteva fare poi ci sono delle impostazioni che io posso dare al laboratorio su dove tagliare queste frequenze più basso è il valore più avrò la presenza di colori quindi ad esempio se io decido di tagliarli a 65 nanometri avrò comunque la presenza di blu di giallo e poi e tutto il resto sarà infrarosso più alzo questa soglia e più i colori si appiattiscono sul canale del rosso e quindi saranno più monocromatici a questo qui è un metodo il corollaio di questo metodo era quando si usavano le macchine a pellicola cioè delle pellicole fatte apposta appunto per captare questi raggi infrarossi e non la luce visibile il secondo modo è usare filtri tipo questo quindi utilizzare la propria macchina normale e apporre davanti all'obiettivo un filtro infrarosso anche anche in questo caso ho la possibilità di scegliere la potenza del filtro o meglio la frequenza a cui il filtro taglia la luce visibile quello più interessante anche più diffuso è 72 nanometri in particolare famosissimo è il filtro della oia r72 come questo che taglia la luce visibile a 72 nanometri questo consente di avere un po più di dettaglio però sempre sulla frequenza del rosso poi in post produzione uno può eliminare questo dettaglio in più o lasciarlo a seconda della del risultato creativo che uno vuole ottenere nel mio caso quindi siccome prima avevo una le macchine a pellicola mi ero ritrovato questo filtro peraltro mi sembra che la faccia parte di un bundle di filtri e che io ho lasciato lì e mi ero dimenticato nel vedere diciamo così le creazioni di questo fotografo mi sono ricordato di averlo l'ho trovato chiaramente a un diametro molto ridotto e quindi lo posso usare solamente su questo obiettivo qui che è un 35 millimetri f2 con un adattatore e ho cominciato a sperimentare questa fotografia i risultati li vedrete a seguire dopo di che farò anche un video su come post produrre questi file scattati sul campo spero che vi piacerà quello che vedete spero di darvi delle degli spunti per sperimentare anche voi questo tipo di fotografia che è veramente molto molto interessante apro e chiudo parentesi uno dei vantaggi di questa fotografia è che i risultati migliori si ottengono in piena luce quindi consente di tirare fuori delle creazioni interessanti anche in quelle situazioni in cui normalmente la fotografia avrebbe poco senso quindi in pieno giorno a mezzogiorno alle due di pomeriggio con un cielo anche insignificante perché un'altra caratteristica di questi filtri è quello di evidenziare il cielo per cui un cielo azzurro diventa nero diventa molto scuro oppure se ci sono delle nuvole queste nuvole vengono evidenziate cosa che in pieno giorno invece sarebbe una un cielo molto molto noioso e con luce molto dura avrebbe poco senso scattare invece siccome appunto l'infrarosso è maggiore quando il sole più alto il momento migliore per scattare per questo tipo di fotografia è proprio in mezzo alla giornata quindi buon divertimento e vediamo se le foto che ho fatto vi sono piaciute grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.